Il mondo dell'arte e anche l'Aquila, piangono Beverly Pepper, la celebre scultrice americana, esponente della land art, è morta nella sua casa a Todi, in Umbria, aveva 97 anni. Conosciuta in tutto il mondo, nata a New York ma da molti anni residente in Italia, Beverly Pepper aveva donato all'Aquila l'Anfisculture del Parco del Sole, un teatro monumento sovrastato da due alte colonne in acciaio, le colonne di Narni. Le sue sculture sono presenti nelle collezioni dei musei di tutto il mondo, da New York, Boston a Barcellona. L'Anfisculture del Parco del Sole di Beverly Pepper è stato un dono dell'artista americana, tra i massimi esponenti della land art, al comune dell'Aquila, nato nell'ambito del progetto 9 artisti per la ricostruzione, promosso e curato da Roberta Semeraro. È stato realizzato grazie a un generoso contributo di Eni, finanziato all'interno del protocollo Ripartire da Colle Maggio, che comprendeva il restauro dell'antigua basilica di Santa Maria di Colle Maggio, avvalendosi anche del sostegno della Fondazione Carispac. La direzione dei lavori e collaudo, come si ricorderà, sono stati a cura della sovrintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'Aquila e il cratere. L'artista era venuta più volte in città, accolta dal sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e anche in regione.